Ciao a tutti! Lui è lui! E lei è Sofì! Oggi una nuova challenge per il canale Me Contro Te! Per la sfida di oggi ci siamo ispirati al film del Major Runner! Major Runner! Parte 1 Disegnate il labirinto! Tanto sono bravissima a disegnare, quindi... Questa è la ragione! Capito! Capito! Eeeh... Capito! 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 Seconda parte della sfida, risolvere il labirinto. Seconda parte della sfida, risolvere il labirinto. La sfida, risolvere il labirinto. La sfida, risolvere il labirinto. La vittoria è stata troppo facile, ho vinto io. Se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e alla prossima challenge.